Musica Perché, non c'è un голос? E' difficile di essere un'attrice in Iran Si, è difficile Penso che, che quando usano gli uomini, non sono speciale con l'Iran Penso che gli uomini è uno spazio difficile E le in Irasi c'è più problemi, magari sì, magari non ma alla fine mi piace il mio lavoro e faccio e il problema non è un attacco da me Il tuo prossimo progetto? In Iran o outside? I play the theatre, il prossimo progetto in Iran e ora ho una serie di tv per la prima volta che ho accettato un role in tv e spero di avere un role internazionale in futuro All the best! Grazie! Grazie!